benvenuti su one piece massimo esperti da karekori su arro oggi parleremo di un altro membro di mugiwara dopo il video sul risveglio di rufi e l'altro video sulle possibili origini di zoro eccone uno su sanji vismok l'esperimento riuscito il vero successo della germa 66 sanji ha avuto una grande storia un ottimo flashback veramente importante ricordiamo che lui odiava il suo cognome e si vergognava della crudeltà della sua famiglia non ha mai voluto essere associato infatti ad essa ma dopo gli avvenimenti di walker kailand è riuscito anche se in parte a cambiare la sua famiglia e giudici il padre accettato suo figlio elencandone tutti i suoi pregi con quel discorso che fece a rufi a fine saga se ricordate un rapporto familiare molto difficile sanji non è il fallimento della germa lui è la perfezione di quello che rappresenta vismok lui è un misto fra la gentilezza la bontà d'animo di sua madre e sora grazie al dna che non è stato modificato geneticamente in modo completo infatti ha anche ereditato i sogni della madre se ricorderete lui continuava a cucinare no per questo amore questa sua passione però adesso ha ereditato anche la red suite la seat black da da suo padre e quindi è un misto messo insieme nei sogni del padre e della madre e fanno ciò che di più forte può rappresentare meglio la germa 66 dopo i due anni proviamo a spiegare le sue abilità fisiche sanji in grado di volare con lo skywalk sa usare sia la chi della percezione che dell'armatura poi riceve la red suite che l'ha potenziato simbolo c'era resistenza ma lui era già su ottimi livelli il potere più grande che riceve da questa armatura questa tuta da questa red suite è l'invisibilità e che gli permette di spiare le donne perché noi sappiamo che sanji è prima di tutto anche questo un gentiluomo che ama la folle alle donne ma soprattutto anche un pervertito che perde il sangue dal naso non è un guerriero lui non nasce come guerriero come zoro mi spiego meglio quest'ultimo nasce come spadaccino ma sanji nasce soprattutto prima come cuoco anzi non come cuoco e basta come miglior cuoco del mondo con l'obiettivo di raggiungere l'all blue il suo sogno grazie ai due anni di allenamento sappiamo che stata a camabacca con il grandissimo ivankov ha imparato le 99 ricette una delle quali ha usato per fermare big mamma con la famosa wendy cake ma è stata importante anche la red suite per me ha reso il mostro attivo e più forte che mai naturalmente in attesa del grandissimo di jim bay il timoniere che comunque a breve spero lo vedremo parliamo brevemente anche degli scontri che ha avuto nel nuovo mondo post fisherman island no lui si è battuto brevemente a pulganza di convergo dove che inizialmente aveva l'impressione di essergli superiore poi diciamo lo scontro si è equilibrato è andata in una leggera difficoltà i retattori di sanji direbbero che lui si è fatto male si è inclinato vicino alla gamba e queste cose qui però in realtà non abbiamo vista massima potenza e quindi secondo noi secondo me sanji poteva duellarci e probabilmente anche vincere ricordiamoci che comunque vergo è un vice ammiraglio e riuscì stava riuscendo a battere smoker se non fosse stato con l'intervento di lo in seguito l'abbiamo visto a zoo contro ship set un headliner che batte con una facilità estrema senza nessun problema senza nessuna red suite a walkie kylian ha avuto i vari scontri con owen che lo attaccava una velocità incredibile assurda per salvare chiffon e ha avuto un paio di scontri veloci con dei fuku riesce a battere anche un figlio di big mom rising quando lui insieme a fluffy stavano fuggendo per tornare sulla nave dimostra un ottimo agito della percezione anche quando dovevano assassinarlo a matrimonio riesce a scansarsi da grandissimo caramella fagiolo come volete voi chiamatelo come vi piace del grandissimo katakuri e lì dimostra di essere abbastanza concentra ad avere un'ottima percezione velocità percezione armatura abbiamo visto a più riprese usare anche l'achide dell'armatura sanji e come disse anche il padre proprio tu che io pensavo fossi fallimento all'achide dell'armatura dimostrazione quanto mai che lui è veramente il più grande successo dei mismock con l'asulio della red suite street black si batte anche con uno dei guerrieri di punta di kaito che sta subito sotto le calamità cioè il peggio uno dei sei guerrieri rivolanti che ci mostra oltre la sua forma animale anche la sua forma ibrida ma sanji in pochissimo tempo con un paio di attacchi oltre a far dimostrare la grandissima resistenza che ha la red suite lo attacca con uno spiovente incredibile partendo dal cielo e lo batte in un solo attacco peggio one battuto sanji sicuramente avrà un ruolo live rilevante nella guerra di wano kuni spero e speriamo di vedere le modifiche apportate come lui disse da parte di frankie asop che gli saranno state richieste in questi questi giorni che sono passati velocemente cauda non ci ha mostrato tutto quello che ci doveva mostrare e secondo me adesso parte l'illazione che abbiamo fatto io cate curi insieme sarebbe fantastico vedere perché non abbiamo ancora visto tutti poteri della red suite se sanji potesse unire quelle che sono le scorse elettriche che gli permette di emanare la city black a quello che il fuoco che lui riesce a far diffondere attraverso le sue gambe che renderebbe la forza d'attacco incredibile naturalmente elettricità intesa come ioni di plasma che sappiamo che comunque questo tipo di sostanze che comunque danno l'impressione di essere elettricità quindi questa può essere la nostra relazione un'altra cosa importante a dimostrare proprio quello che è il personaggio insieme la sua anima nel suo spirito è stato il fatto che lui sanji è stato protagonista di uno spin off dall'autore di shungeki no soma food wars ok yuto tusaka è stato fatto un piccolo spin off di nome shungeki no sanji che vi consiglio di guardare che è stato ottimo dimostrazione delle sue grandissime arti culinari detto questo finisce nostro video più che teoria approfondimento diciamo così lo reputo più un approfondimento fatto l'ultimo pezzettino detto che si potrebbe unire questi gli uni questo plasma alla sua emanare le fiamme detto questo spero vi sia piaciuto iscrivetevi alla pagina facebook iscrivetevi al canale youtube se non lo siete ancora nostri diciamo fans follower grandissimi passate anche per instagram e diteci soprattutto voi cosa ne pensate perché ricordatevi che è sempre importante dire voi cosa ne pensate questo video realizzato da monchetti e catacoli suar era un obbligo per quello che vi smoke sanji il principe della germa 66 per ribadire ancora il concetto che a me e a noi ci piacciono tutti i mugiwara e probabilmente più avanti faremo video anche sugli altri meme della shurma al prossimo video da one piece i massimi esperti è tutto arrivederci pirati ciao ciao ciao